ben ritrovati video per le classi seconde un video di ripasso di sound 70 che abbiamo già studiato come solfeggio e posizione muta in questo video ripetiamo soltanto le ultime due fasi di studio cioè la posizione muta con la lettura delle note del ritmo e poi la fase suonata attenzione il brano comincia con quattro battute di aspetto quindi la prima battuta in realtà è da considerare con il numero 5 la prima battuta che leggiamo adesso leggiamo le prime quattro battute che in realtà vanno dalla battuta 5 alla battuta 8 posizione muta un due tre quattro mi mi fa sol mi mi fa sol la la si do la la sol proviamo adesso a fare ripetizione voi con la professoressa formizzi io faccio poi ripetite insieme a lei e ci andiamo avanti altre quattro battute quindi partiamo dalla battuta che si è la battuta numero 9 che è la penultima battuta della prima riga e andiamo avanti fino alla seconda battuta della seconda riga cioè la battuta 12 da battuta 9 a 12 sono quattro battute molto simili non stiamo lì a rifare la posizione muta perché come vedete cambia solo l'ultima nota invece che sol finisce con il si facciamo subito quindi la parte suonata ottimo adesso siamo arrivati alla battuta numero 13 siamo metà canzone e facciamo le nostre prossime quattro battute quindi da battuta 13 finiamo tutta la seconda riga sono quattro battute una volta in posizione muta un due tre quattro do pausa do la sol do pausa do si la pausa la sol mi la pausa la si come prima adesso vota e risposta voi suonate insieme alla professoressa tre quattro do le nostre battuta bene adesso ci manca l'ultima riga cioè da battuta 17 fino alla fine in realtà queste battute sono anche in questo caso quasi uguali alle 4 che abbiamo appena fatto cosa cambia cambia soltanto che nell'ultima battuta la viene prolungato e poi si finisce con il sol invece che con il si leggiamo una volta in posizione muta per sicurezza un due tre quattro do pausa do la sol do pausa do si la pausa la sol mi la la sol suoniamo sempre botta e risposta benissimo facciamo una volta tutto il brano adesso suonate insieme a noi partiamo al quattro da capo punto due tre quattro a 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